L'Italia ha fatto una buona season con Sassari, cosa puoi ricordare dell'Italia, dell'Italia, dell'Italia e della Siena? Mi ricordo l'Italia dell'Italia, l'Italia è una buona liga, i ragazzi sono competitivi, l'Italia è stato molto difficile, ma è meraviglioso. Siena è una buona organizzazione, l'Italia è una buona esperienza, è una buona esperienza. Hai seguito da molti team, perché hai deciso di venire in Siena? Beh, per essere sincero, ho deciso di venire in Siena Euroleague per l'ultimo. Questo è il migliore, tutto ciò che hanno, voglio essere parte. Molti nuovi team, persone degli Stati Uniti, questa è la prima esperienza in Europa, credi che ci aiuteranno a capire il basket europeo? Sì, credo che potrei insegnare a loro, alcuni ragazzi non sono ancora usede, non sapevano cosa sta succedendo. Alla prossima è il basket. Se hai domande, se hai domande, parlate con me. Ciao! Ciao! Grazie!